Il 5 aprile del 2024 una ragazza di nome Mildred ha pubblicato un video piuttosto strano sul suo profilo tiktok. Nel video la ragazza spiega che era stato registrato nel febbraio di quest'anno quando si è svegliata e ha notato che il suo cagnolino era nel letto insieme a lei e sua sorella. Dato che il cane non si mette mai lì con loro ha pensato di registrare il tutto. Una volta riguardato il video però ha capito che forse c'era un motivo per cui il cagnolino era lì ha gomitolato ai suoi piedi e gli spettatori che l'hanno poi visto hanno ipotizzato che si stesse nascondendo o cercasse protezione e conforto. Questo è quello che Mildred ha registrato. Avete notato qualcosa di strano? Ad un certo punto mentre la ragazza gira il cellulare si può notare qualcuno o qualcosa spuntare da dietro la coperta. A prima vista è difficile scorgere quella figura anche perché si vede giusto per un secondo ma rallentando, zoomando o facendo un fermo immagine si può vedere benissimo quello che sembra il volto di una ragazza. Mildred giura che in quel momento oltre a lei e sua sorella che stava dormendo sul letto come possiamo vedere non c'era assolutamente nessun altro istanza. Le persone che hanno visto il video hanno ipotizzato che si trattasse di un demone, di un fantasma oppure di uno skinwalker viste le sembianze umane. La cosa certa secondo molti è che il cagnolino si sia posizionato sul letto insieme alle ragazze perché è impaurito. Ma secondo voi cos'è stato ripreso quel giorno? Una figura paranormale oppure qualcosa di spiegabile razionalmente come un gioco di luci? Fatemelo sapere qui sotto. Qualche mese fa un utente ha pubblicato su Reddit il video delle sue videocamere di sorveglianza domestica. Definire strano quello che hanno ripreso sarebbe riduttivo. Il ragazzo era da solo in casa, i suoi genitori erano via per una vacanza di una settimana e una sera ha sentito uno strano rumore di passi. Preoccupato che potessero esserci dei ladri il ragazzo ha acceso le videocamere al piano di sopra. Quello che ha ripreso però lo ha fatto solo spaventare ancora di più. Guardate. A prima vista è difficile scorgerla ma sulla sinistra del filmato si può chiaramente vedere quella che sembra un'ombra fare avanti e indietro. La cosa strana è che la sagoma si può anche vedere riflessa allo specchio il che fa pensare si tratti di una persona in carne ed ossa ma facendolo zoom e mettendo a rallentatore il filmato possiamo vedere che quella figura non sembra affatto umana. Secondo voi quindi che cosa ha ripreso il ragazzo quella notte? In seguito alla pubblicazione del primo filmato l'utente di Reddit ne ha pubblicato altri nei quali però non si riesce a vedere nulla di strano. Quindi che cosa ha ripreso in quell'unico filmato? Forse una figura paranormale? Da quel momento l'utente non ha dato ulteriori aggiornamenti. Se avete foto o video spaventosi catturati da voi oppure vedete dei video inquietanti e inspiegabili sul web che vorreste vedere in questo canale mandate il vostro materiale alla mail solohorror98.com. Sto ricevendo un bel po' di video e fotografie fatti da voi e nei prossimi video sicuramente inserirò quelli che mi hanno colpito di più. Quindi grazie. E adesso continuiamo. Un giorno ho aperto tiktok e mi sono imbattuto nel video che voglio mostrarvi ora. È stato pubblicato da una pagina che condivide contenuti spaventosi di altre persone e pertanto non sono riuscito a trovare l'uomo che originariamente ha pubblicato il video. Nonostante questo abbiamo comunque abbastanza informazioni per parlarne. Durante una giornata come le altre un uomo ha deciso di andare nel suo seminterrato e riprendere ciò che stava accadendo. Secondo le sue dichiarazioni l'uomo aveva appena sentito un rumore di passi provenire proprio dal seminterrato ma dato che nessuno si trovava lì da un bel po' di tempo si è preoccupato e per togliersi ogni dubbio è andato a controllare registrando tutto. Guardate. Grazie. 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 Oh, yes you did. Oh, you got my heart good. Oh, yes you did. Ma proprio prima di chiudere la porta, si rigira verso il seminterrato e all'improvviso una palla giocattolo si lancia da sola contro di lui. Non sappiamo che cosa sia accaduto dopo quel momento. L'unica cosa certa è che dopo aver registrato il video, l'uomo si è tenuto il più lontano possibile da quel seminterrato. Secondo voi cos'è stato lanciare quella palla? È possibile sia stata una presenza sovrannaturale? Oppure avete un'altra spiegazione? Sinceramente, per come la vedo io, questo video potrebbe essere una messa in scena. Qualcosa mi fa pensare che sia stato tutto organizzato, a partire dal modo in cui è arredato il seminterrato, pieno di strane bambole inquietanti, fino allo scherzo della bambina e alla reazione del padre. Come sempre però, lascio decidere a voi cosa credere. Una donna del Texas di nome Kiki Clemons, in un giorno come un altro, ha pubblicato un video molto particolare sul suo profilo TikTok. Nel suo giardino stava succedendo qualcosa di davvero strano. Così la donna ha cominciato a registrare, anche per mostrare a tutti che effettivamente qualcosa non andava. Ma sembrava che i suoi amici e conoscenti non le credessero. Ma era già da un po' di tempo che il suo cane, per qualche motivo, rimaneva fermo a fissare il capanno nel suo giardino. Come se ci fosse costantemente qualcosa che attirava la sua attenzione. Ovviamente lì dentro non c'era nessuno e la porta era sempre chiusa a chiave, come ha anche mostrato in un video alla ragazza. La cosa molto strana è che proprio ogni volta che la donna usciva di casa insieme al suo cane, lui rimaneva concentratissimo a fissare il capanno. Non c'è stata una sola volta in cui non si sia fermato a guardare. Ovviamente Kiki lo trovava strano, ma non si sarebbe mai aspettata che le cose sarebbero presto peggiorate. Quando quel giorno ha cominciato a registrare, la porta del capanno si era già inspiegabilmente aperta da sola. Ovviamente terrorizzata, Kiki ha cominciato a registrare, avvicinandosi in maniera cauta insieme al suo cane. Questo è ciò che ha ripreso. Questo è davvero strano. Non c'è nulla modo che la porta è solo aperta da sola. I really don't get freaked out by that That door has a Keypad lock on it And it's actually Hard to get in Where are you going? Don't leave me There's like What Why did you just jump like that? Why did you, baby Y'all Do you see her? What the fuck is going on? What the fuck is going on? Dopo aver pubblicato il video su TikTok, gli spettatori hanno fatto notare che il cane stava guardando in alto dietro la porta, come se qualsiasi cosa catturasse il suo interesse fosse molto alta, posizionata proprio in alto. Da quel momento la ragazza si è convinta del fatto che era accaduto qualcosa di paranormale e inspiegabile. A quanto pare ancora oggi il cane si comporta nella stessa identica maniera, lasciando così credere alla ragazza e agli spettatori che l'animale veda qualcosa che gli esseri umani non sono in grado di vedere. Ma che cosa pensate voi? Cosa può aver fatto comportare in questa maniera il cane di Kiki? Se avete qualche suggerimento, sentitevi liberi di scriverlo qui sotto con un commento. Quello di cui voglio parlarvi ora non è un video. Si tratta più che altro di una leggenda nata e diffusa su internet. Una leggenda che parte da una semplice fotografia. Potrete crederci oppure no, ma sappiate che chiunque ha visto la foto e chiunque ha ascoltato la sua storia è rimasto senza parole. Come ogni leggenda che si rispetti non conosciamo in maniera precisa le sue origini, il che la rende ancora più strana e misteriosa, ma al tempo stesso meno credibile. La leggenda racconta di un bambino, come tanti altri, che per anni, a partire da quando aveva cominciato a parlare, ha sempre raccontato a sua madre di avere un'amica immaginaria. La chiamava Broken Neck Friend, tradotto, amica dal colorotto. Il bimbo diceva alla mamma che era simpatica, che giocava con lui ed era del tutto innocua, quindi la donna non si è mai preoccupata più di tanto. Negli anni crescendo, il bimbo ha sempre continuato a raccontare alla madre le sue avventure insieme all'amica e quando ne è stato in grado, ha anche cominciato a disegnarla. Questo è uno dei suoi disegni. I genitori, dopo anni in cui il figlio continuava spesso a parlare dell'amica immaginaria, si sono giustamente preoccupati. Il disegno, come avete visto, è piuttosto inquietante, ma alla fine, pensando all'incredibile immaginazione che hanno i bambini, hanno lasciato perdere. Questo, fino a quando un giorno non si sono ritrovati a sfogliare le vecchie fotografie di famiglia. Sfogliando e sfogliando, hanno trovato una foto che ritraeva il bambino quando era ancora molto piccolo. Una foto che non si sarebbero mai dimenticati. La presunta amica immaginaria era stata catturata in foto insieme al figlio, ed era semplicemente terrificante. Mettendo a confronto la fotografia e il disegno, possiamo notare una somiglianza agghiacciante. Le persone online hanno espresso paura e fascino nei confronti di questa foto, e si sono divisi, come al solito, tra scettici e credenti. Quindi, adesso tocca a voi. È davvero possibile che questa leggenda sia veritiera? Cosa avreste fatto nei panni dei genitori del bambino? Aspetto le vostre considerazioni qui sotto. Intanto, vi ringrazio per la visione, e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video. Grazie per la visione!